Trovate circa 30 anni fa nell'area archeologica di Pestum, tre monete antiche di bronzo sono state consegnate oggi in forma anonima al direttore del parco archeologico di Pestum, Gabriel Zugtrigel. I funzionari del parco già stanno provvedendo al restauro e alla inventariazione degli oggetti, tra i quali spicca quello che, secondo una prima analisi, sembra essere un quadrante del secondo secolo a.C., con testa barbata del dio Nettuno sul lato e l'immagine di un delfino sull'altro. Sotto la rappresentazione del delfino si legano le lettere Pais, abbreviazione del nome romano Pestum Pestum, dell'antica colonia ellenica fondata intorno al 600 a.C., sulla costa tirrenica dell'Italia meridionale e chiamata Poseidonia dai Greci. Si tratta dell'ultima in una serie di restituzioni da parte di persone pentite che hanno deciso di consegnare al parco archeologico materiali custoditi a casa propria per renderli fruibili al pubblico e alla comunità scientifica, spesso dopo molti anni. Ringraziamo chi ha fatto un gesto del genere, dichiara il direttore, anche se ricordiamo che è preferibile segnalare subito ogni ritrovamento di carattere archeologico, perché solo in questa maniera possiamo risalire al contesto originario degli oggetti, che è fondamentale per la conoscenza e per l'inquadramento scientifico dei materiali. Intanto continuano gli scavi stratigrafici nei pressi del Tempio di Nettuno, il più grande e meglio conservato dei tre templi pestani ancora visibili sul sito. Il progetto di scavo, che si inserisce in un più ampio intervento volto a implementare un sistema di monitoraggio sismico sul Tempio, potrebbe gettare luce su alcuni degli aspetti ancora poco chiari, quali per esempio la cronologia precisa e il culto connesso all'edificio. Spesso le persone mi chiedono se c'è ancora qualcosa da scoprire in un sito come Pestum, commenta il direttore. La verità è che ci sono ancora tante domande aperte persino riguardo un monumento così emblematico e famoso come il Tempio di Nettuno. La valorizzazione, come la intendiamo a Pestum e Velia, mira a rendere i siti vivi attraverso un'azione di condivisione e di apertura degli scavi al pubblico, anche all'insegna di un approccio di pubblica archeologia. Inoltre, quest'ultimo progetto, sul Tempio, si avvale di importanti finanziamenti privati arrivati tramite la piattaforma Art Bonus, tanto da considerarlo un modello esemplare nel creare un circuito virtuoso tra ricerca, tutela, valorizzazione e partecipazione di cittadini e aziende locali.